Bentornati, allora oggi vi racconto perché Jesus Christ Superstar è il musical più importante nella storia di questo genere. Anzi, vi rispiegherò perché c'è un prima e un dopo, cioè un po' come la storia dell'umanità si divide in avanti Cristo e dopo Cristo, quantomeno così viene conteggiato, così la storia del musical si divide in un pre-Jesus Christ Superstar e post-Jesus Christ Superstar. Le novità che ha portato questo musical nel genere sono tantissime, oggi ne vedremo una parte, ma prima di parlarvene vi ricordo che il suo autore, Andrew Lloyd Webber, l'ho scritto che aveva solo 22 anni. E questo al netto del fatto di un talento straordinario, tutto quello che vogliamo, viene da famiglia di musicisti, ha avuto tutte le migliori condizioni per poter lavorare, per amor del cielo, ha avuto un grandissimo librettista come Tim Rice, al suo fianco, fin dai tempi della scuola, questo è in dubbio. Però ritorno al fatto che io racconto spesso, che io dico spesso agli alunni durante le masterclass, quando dico guardate che certo uno a 40 anni o anche di più ha la maturità, il gusto, la sensibilità, l'esperienza di capire cosa può funzionare e cosa può non funzionare. Ma la creatività che c'è a 20 anni, invariabilmente poi col tempo si perde, col tempo ci sono serie di sovrastrutture, col tempo c'è appunto l'esperienza, lo studio, il capire il gusto degli altri, ma a 20 anni si scrive in maniera più inconsapevole e quindi più pura se vogliamo. Io stesso molte volte quando guardo delle composizioni che ho scritto da ragazzo, le guardo e dico però non era neanche una cattiva idea questa strada che avevo intrapreso e molte cose sono state fatte per pur istinto, non per conoscenza, non per studi, non per raffronto con altre realtà, come invece poi capita nell'età più adulta, più matura. Per cui non dimentichiamoci che il signor Andrew Lloyd Webber ha scritto questo capolavoro a 22 anni. Allora perché dico che c'è un pre e un post? Perché prima di Jesus Christ Superstar il linguaggio del musical, ossia di quella tipologia di spettacolo tipica americana ma anche inglese o comunque dell'area anglosassone che nasceva diciamo se vogliamo dalla fine dell'Ottocento, primi nel Novecento, che poi si è portato dietro per tutto il secolo, il linguaggio era fondamentalmente un linguaggio abbastanza standardizzato, era il linguaggio degli Rogers e Hammerstein, il linguaggio dei Sondheim, il linguaggio che ogni tanto attingeva alle operette di Gilbert e Sully, insomma quel mondo lì, pensate a Oklahoma, South Pacific, Sound of Music, insomma tutto quel mondo lì. Non c'era mai stato invece un attingere a piene mani direi da rock come invece succede con Jesus Christ Superstar. Questo attingere da rock in realtà si era già usato nelle appunto cosiddette opere rock, che sono anche precedenti a Jesus Christ Superstar, pensiamo per esempio a Hair più famoso, pensiamo a Tommy De Lee Hu, però a loro volta queste forme derivavano fondamentalmente dai concept album che ci sono stati negli anni 60, pensiamo a quello che hanno fatto i Genesis, i King Crimson, insomma è tutto quel mondo legato più o meno al prog, che poi ha portato anche così a tanti capolavori. Però perché dico che Jesus Christ Superstar è più rilevante di Tommy o di Hair? Per una ragione fondamentale, che mentre le due sono menzionate, pur essendo due capolavori assoluti, io in particolare amo particolarmente Tommy, sono però appunto delle opere rock, cioè praticamente una storia narrata attraverso non solo il linguaggio del rock, ma anche attraverso la strumentazione del rock, il suono del rock, quindi le chitarre elettriche, basso, batteria, tastiera, eccetera, eccetera. In Jesus Christ Superstar invece questo linguaggio c'è, c'è un linguaggio fatto con le chitarre elettriche, con le batterie, ma viene meravigliosamente incorporato con l'orchestra classica e con una grande orchestra, non solo con qualche strumento o con una base d'archi che in tante canzoni, anche nel pop si sentiva fin dagli anni 50, quindi insomma da questo punto di vista niente di nuovo. Però questo abbinamento di orchestra sinfonica e di tutti quegli strumenti tipici del rock, quindi appunto chitarre elettriche ed affini, era se vogliamo una novità assoluta. Benché sia un musical di successo planetario e lunghissimo, in realtà non nasce come musical, nasce come progetto discografico a sé stante. Nel 1970 viene pubblicato questo disco, appunto che si chiama Jesus Christ Superstar, con alla voce Murray Head, che qualcuno ricorderà anni più avanti con One Night in Bangkok, ma soprattutto con Ian Gillan, il leggendario cantante Daddy Purple, che da lì a pochissimo andrà nei Deep Purple, e l'anno dopo uscirà Smoke on the Water, insomma è una serie di altri capolavori incredibili di questa band, che peraltro amo tantissimo. Il disco ha un buon successo, tanto è vero che si comincia a pensare a trasformarlo in un qualcosa di live, e si cominciano infatti a fare dei concerti in forma però praticamente semiscenica, o se vogliamo in forma di oratorio, come veniva dalla tradizione di Bach, e dalla tradizione barocca, quindi se vogliamo un'opera messa in scena, senza scena, quindi senza scena e costumi, luci, semplicemente in forma di concetto, dove i vari personaggi sono lì affiancati uno all'altro, e quando è il loro turno cantano la loro parte, senza che ci sia una regia, e quindi una dimensione scenica dello spettacolo. Dopodiché lo spettacolo debutta a Broadway, pur essendo scritto da due inglesi, Lloyd Webber e Tim Rice, debutta prima negli Stati Uniti che in Inghilterra, e solo l'anno dopo debutta anche in Inghilterra, e comincia ad avere un successo veramente importante, tanto è vero che poi l'anno dopo, nel 1973, verrà rifatta una nuova registrazione, con un nuovo cast, salvo qualcuno che viene tenuto dal cast precedente, Ian Gillan figuratevi era partito con la carriera di Papo, nel 1973, non aveva tempo per pensare di fare nient'altro, viene trovato Tom Neely, che insomma è uno che aveva già fatto in realtà la produzione a Broadway, che quindi viene preso anche per la produzione londinese, e ovviamente per la registrazione del disco, e questo disco viene registrato, come dicevo prima, non solo dai musicisti rock, ma dalla London Symphony, diretta niente proprio di meno che da Andre Prevent. Questa registrazione legata al film che esce, ha un successo planetario, e devo dire comunque che la messa in scena del film, dà ulteriormente voce e quindi successo al musical, perché è una messa in scena molto originale, in cui elementi antichi, l'opera viene girata in mezzo al deserto, come poteva essere benissimo il deserto della Palestina, però poi vengono usati gli elementi moderni, i mitra, i carri armati, gli aerei, e anche questo dà una grande novità nell'approccio, anche dal punto di vista meramente cinematografico, io ricordo insomma che quando sentivo parlare da bambino di questo film, e c'erano si parla di Gesù, però c'erano i carri armati e i mitra, insomma la cosa era un po' strana, però la cosa aveva destato grande scalpore, pur nelle critiche, poi insomma come sempre parlatene male perché se ne parli, insomma però sta di fatto che il film venne molto apprezzato e tra l'altro in Italia vinse anche il Davide Donatello come miglior film straniero. Andrew Lloyd Webber, già nel musical precedente, Joseph and the Amazing Technical Dreamcoat, che ha trovato un musical molto bello, che vi consiglio di andare a approfondire se non conoscete, aveva come dire affrontato l'argomento biblico, qui va un po' più diretto, e l'idea di parlare di Gesù in questi termini è assolutamente vincente, poi ovviamente ci saranno anche chi lo criticherà, chi lo troverà non coerente con quello che c'è scritto nella Bibbia, ma insomma si tratti pur sempre di un film, per cui bisogna dargli la valenza di un film e nient'altro. Nel cast oltre a Tom Neely c'è il leggendario Karl Anderson, che prenderà parte a tantissime rappresentazioni, farà migliaia nel corso della sua vita, anzi possiamo dire che tutta la sua carriera, poi insomma è morto a poco meno di 60 anni, una ventina di anni fa, tutta la sua carriera in realtà è ruotata attorno al personaggio di Giuda, insomma. Karl Anderson interpreterà questo personaggio, anche controverso, anche se poi se vogliamo la figura di Giuda all'interno del musical viene vista in maniera abbastanza bonaria, cioè viene visto fondamentalmente come un predestinato che fa semplicemente quello che era il suo scopo, quello che avrebbe dovuto fare, insomma, quindi non come un cattivo necessariamente a cui dare addosso la colpa della morte di Gesù, sì che è semplicita, ma semplicemente come una pedina di un gioco più grande di lui. Karl Anderson appunto reciterà il ruolo di Giuda migliaia e migliaia di volte nel corso della sua carriera, in tante produzioni in giro per il mondo. Io stesso ho assistito una buentina di anni fa, circa, forse anche qualcosina in più, al Teatro Nuovo a Milano, a un tour appunto in cui c'era un giro al Superstar di cui ho visto due o tre o quattro produzioni, dove c'era appunto Karl Anderson che appunto faceva parte di Giuda e insomma, e vederlo dal vivo, ai tempi aveva credo una cinquantina d'anni o qualcosa del genere, fu veramente uno spettacolo, non si risparmiò per niente e veramente fu una bellissima esperienza assistere a quello spettacolo. E sempre a proposito di Karl Anderson, mi ricordo una volta un episodio divertente che accade, lui era invitato, forse proprio nel corso di quella tournée di Giuda al Superstar, era invitato a una trasmissione, vi direi domenica in, insomma, un'unica trasmissione, comedia nazionalpopolari e in cui veniva intervistato naturalmente con l'auricolare, con l'interprete simultaneo che traduceva quello che lui diceva e l'interprete lì incappò in un malinteso, nel senso che la domanda che feceva Karl Anderson era stata ma tu hai interpretato migliaia e migliaia di volte questo personaggio di Giuda all'interno di Jesus Christ Superstar, ma insomma, non ti stufi mai di fare sempre lo stesso personaggio? E lui rispose sometimes I do pilot, cioè disse, a volte mi alterno e faccio invece che il ruolo di Giuda faccio quello di Pilato perché, insomma, capita nelle produzioni musical che a volte i cantanti proprio per non ripetere eccessivamente lo stesso ruolo si scambino per dare un po' più di freschezza al personaggio. Solo che in inglese la pronuncia di Pilato e di Pilota è praticamente molto molto simile quindi il traduttore incappò in questo malinteso e invece che tradurre sometimes I do pilot a volte faccio Pilato quindi il ruolo di Pilato tradusse a volte faccio il pilota e si è immaginato Carl Anderson alla guida di un bimotore che volava in giro per l'Europa per come dire per non essere troppo soffocato dal ruolo di Giuda. La musica la musica è bellissima l'ho premesso che io per Lloyd Webber ho veramente un debole conosco tutti i suoi musical non tutti sono capolavori ma tanti capolavori ci sono pensate solo appunto a Jesus Christ per star il fantomo di opera Cats Evita Sunset Boulevard sono tanti insomma quindi non tutti capolavori questi che viene nominato sì degli altri che non viene nominato non tutti sono ovviamente di capolavori ma nessuno scrive sempre e solo esclusivamente capolavori ma sta di fatto che Lloyd Webber è era e forse sarà anche per qualche annetto ancora il compositore più importante di questo genere nel mondo. La musica come vi dicevo è un connubio perfetto meravigliosamente realizzato fra un'orchestra sinfonica e un gruppo rock questo grazie anche è le sapienti orchestrazioni fatte da Lloyd Webber poi con un collaboratore storico insomma anche se non ricordo male le orchestrazioni in quel caso risultano esclusivamente fatte da lui però generalmente Lloyd Webber dà sempre a un orchestratore storico con cui si alterna quindi a cui non affida completamente l'orchestrazione ma con cui si divide le orchestrazioni comunque sia chiunque l'abbia fatte ha fatto un lavoro strepitoso e questo musical è veramente il matrimonio perfetto tra il classico e il moderno forse proprio per questo ha avuto una vita così longeva forse proprio per questo è stato fatto una quantità enorme di produzione in giro per il mondo è stato anche tradotto in varie altre lingue anche se non sempre sono favorevoli alla traduzione dei musical così come anche delle opere ma questo è un altro discorso quindi se lo guardate oggi ci troverete ancora un prodotto incredibilmente fresco e ben fatto ecco forse quello che risulta un po' adattato è stato il fatto che la comunità di Gesù viene come dire accostata a un gruppo di hippie che poi insomma forse non era neanche così balzana l'idea di fare degli apostoli un gruppo di hippie insomma però insomma è chiaro che nel 71 la cosa aveva un peso e oggi come oggi quell'aspetto probabilmente un po' adattato ma al netto di questo chi se ne frega insomma possiamo togliere gli hippie e metterli e ambientare e ambientare la cosa in un qualunque altro periodo storico e funzionerà ugualmente il musical è pieno di brani molto belli ovviamente il più famoso appunto è Superstar che tra l'altro era vagamente somigliante a un pezzo di End che una volta avevo sentito insomma quindi non so se c'era stato più o meno volutamente un riferimento da parte di Lloyd Webber ma al netto di questo il linguaggio è fresco e veloce e moderno è veramente catchy non c'è un pezzo di tutto il musical che risulta pesante o che risulta non all'altezza degli altri poi Superstar naturalmente è quello più famoso e poi forse il grande successo di questo brano famosissimo naturalmente è proprio come dire che viene fatto alla fine del musical con Giuda già morto che in un certo senso resuscita per cantare questa canzone e probabilmente nell'intenzione degli autori Giuda se vogliamo è l'uomo di allora è l'uomo medio di allora anche con i suoi dubbi riguardo a religione riguardo alla credenza riguardo a tutto quello che volete e quindi insomma c'è questo rapporto sempre di grande rispetto di grande in certi casi perfino timore riverenziano in fronte di Gesù ma al contempo c'è un approccio molto diretto e in certi casi molto pragmatico e in certi casi anche molto critico non per niente vi ricorderete la famosa frase Jesus Christ Superstar do you think you're what they say you are che se vogliamo come dire raggruppa tutto lo scetticismo da una parte ma anche la stima personale dall'altra parte il cast è di ottimo livello forse il limite è che praticamente nessuno di quelli che hanno partecipato soprattutto la realizzazione del film e poi mi è riuscito veramente a staccarsi da da quel personaggio forse l'unico che è stato è stato Paul Thomas che poi era quello che interpretava Pietro che poi ha avuto una carriera di attore porno insomma come dire si è rifilato un attimo in un altro settore insomma ecco però nel suo genere ha fatto una gran bella carriera insomma gli altri sono rimasti sempre un po' schiacciati dal peso di questo successo planetario e quindi quando venivano chiamati quasi sempre dovevano quasi sempre erano chiamati a fare questo personaggio poi gli altri hanno fatto comunque una carriera qualcuno sono invitati di cantatori altri hanno fatto gli attori insomma anche di prosa di film di teatro di cinema normale diciamo così quindi non cantato però insomma diciamo che il bagno di folle e di notorietà l'hanno fatto con questo spettacolo questo spettacolo che proprio perché è arrivato per Lloyd Webber molto giovane quindi aveva poco di 20 anni è stato poi il tamponino di lancio per tutto il resto perché quando hai quel talento lì e fai uno spettacolo di quel successo lì che ancora oggi dopo 50 anni è ancora eseguito in tutto il mondo è chiaro che i produttori tenderanno a darti fiducia per i prossimi progetti per cui in conclusione se non conoscete a memoria Jesus Christ Superstar rimediate immediatamente l'ho trovato ovviamente su tutte le piattaforme in streaming oppure se siete particolarmente anziani compratevi un DVD una videocassetta un progettore 8mm insomma vedetelo in qualche maniera ma vedetelo possibilmente su un buon impianto audio dove la raffinatezza e la freschezza del connubio orchestra gruppo rock veramente si può apprezzare a pieno ma anche se lo conoscete appena finito questo video fiondatevi a riascoltarlo ci vediamo la prossima volta